E' la Diodoro Ecologica ad aver vinto la gara d'appalto europea da 14 milioni e mezzo di euro per la raccolta dei rifiuti nel comune di Roseto degli Abruzzi. La società rosetana, che già gestiva la raccolta in città dal marzo del 2011, ha battuto la concorrenza di altre sei ditte e, come ha spiegato il presidente della commissione di gara, l'architetto Patacchini, ha offerto un mix conveniente tra servizi e ribasso economico. Ieri c'è stata l'aggiudicazione in via provvisoria. L'appalto della durata di cinque anni, infatti, dovrà essere affidato in via definitiva, previo controllo delle autocertificazioni e salvo ricorsi delle altre ditte, questi scontati, durante questo tipo di gare. Tra le novità più importanti del nuovo servizio ci sarà l'estensione della raccolta differenziata porta a porta a tutto il territorio comunale. Arriveremo all'assegnazione definitiva e quindi noi inizieremo sul territorio comunale una serie di incontri, di sensibilizzazioni dei cittadini e anche di dettaglio delle operazioni da compiere e quindi nel mese di settembre e ottobre gireremo sul territorio e pensiamo che prima di Natale non avremo più un cassonetto su tutto il territorio comunale, ma non solo il cassonetto, perché oltre al cassonetto, come dicevo, ci sono una serie di servizi aggiuntivi che sono stati messi nel bando e che poi verranno elencati dettagliatamente e rappresentati ai cittadini, che contribuiranno in maniera decisiva a tenere ordinata e pulita la nostra città. Per noi, come amministrazione comunale, è un grande risultato. Mantenere la città pulita è l'impegno che ha preso l'amministrazione Pavone. Il sindaco però si rivolge anche ai cittadini affinché facciano la loro parte. Con il nuovo servizio di raccolta comunque verranno incrementate le ore di apertura del centro di raccolta comunale e ci sarà la possibilità di far ritirare a domicilio i rifiuti ingombranti e sotto questo profilo aumenteranno anche le sanzioni e i controlli con le fototrappole per i cittadini più indisciplinati che lasceranno i rifiuti nei luoghi non deputati. D'altro canto ci sarà la possibilità di risparmiare sulla tariffa della Tari attraverso la pratica del compostaggio. Quindi si va incontro alle esigenze della cittadinanza, si risparmia rispetto agli oneri di smaltimento e soprattutto questo va in linea con quello che già l'amministrazione sta realizzando con la riduzione anche degli oneri di smaltimento della frazione indifferenziata e quindi grazie alla riattivazione della discarica di Grasciano dove attualmente dopo tanto tempo di assenza la città di Roseto e il comune di Roseto sono tornati a conferire il loro rifiuto indifferenziato.